Buongiorno e benvenuti a TG Giovani, notizia dell'ultima rapa. Sempre più giovani catturati dalla rete. Dall'ultimi sondaggi è emerso che 8 ragazzi su 10 sono discritti ad un social network. Ma vediamo ora cosa ne pensano i giovani. Uso internet per andare nei social network ma anche per cercare informazioni che mi interessano. Penso sia molto istruttivo. Sì, vado su internet, quando ho niente da fare, guardo video, gioco, chatto. Sì, cioè io uso sempre internet solo per Facebook, per i contatti con i miei amici, io sono stra felice di usarlo. Voglio salutare in particolare... Esiste un altro mondo virtuale. Nel nostro mondo non c'è solo Facebook. Sapete che c'è un'altra lista di siti interessanti? Puoi dire la tua? Accedi al sito della Regione Veneto ed entra nella sezione dedicata al forum. Riscopri l'arte tramite il web. Vuoi informazioni sull'università? La Regione Veneto ti offre l'opportunità per realizzare il tuo futuro. Non ci sono aggiornamenti per l'ora del dottore? Con internet si può! Grazie a tutti! Grazie a tutti!